Sì, è svolta all'hotel Cosmopolitan di Civita Nova Marche l'assemblea ordinaria dell'ordine dei farmacisti della provincia di Macerata, folta la partecipazione degli iscritti all'ordine. A far gli onori di casa è il presidente Luciano Diomedi che ha relazionato sull'attività svolta nell'anno 2015 e sulle problematiche riguardanti la categoria, anche alla luce delle imminenti noventà legislative riguardanti il settore. Farmacisti, una categoria in questo momento di difficoltà, di crescita del paese, come viene tutelata la salute del cittadino? È naturale che anche il sistema farmacia e la professione del farmacista è messa a dura prova da questo governo. Oggi stiamo parlando di Previdenza che è il nostro percorso finale della nostra attività professionale e anche lì dovremo avere una ristrutturazione del sistema e dovremo anticipare i cambiamenti anche in considerazione di questo nuovo DDL della concorrenza che ha come obiettivo l'ingresso per la prima volta di capitali esterni da parte all'interno della farmacia, quindi di non farmacisti che entrano nel mondo della salute. E questo sicuramente è un momento di riflessione e un motivo di preoccupazione per la categoria perché all'interno di questa, diciamo, con una nuova figura del capitale esterno non possiamo certo esimersi dalla preoccupazione di poter garantire la salute al cittadino. Come si può rimodulare la figura del farmacista in questo nuovo contesto? Beh, certamente è una grande rivoluzione per quanto riguarda il sistema farmacia. Possiamo dire che noi dalla legge Bersani, il decreto Monti e fino adesso il DDL concorrenze ci ha portato sempre a delle situazioni di instabilità a livello di programmazione e di stabilità della professione. Dove possiamo arrivare? Dobbiamo arrivare non in un contesto di temi economici ma in un contesto di discussione, di professionalità. e quindi il farmacista dovrà ricoprire un ruolo che è totalmente diverso dalla dispensazione solo del farmaco ma certamente occorre che il farmacista inizi a essere un grande protagonista per quanto riguarda il welfare della salute ovvero andiamo a monitorare la complianza, andiamo a monitorare l'aderenza terapeutica del cittadino. Abbiamo fatto diversi progetti a livello nazionale, adesso andremo ad affrontare un altro progetto quello del monitoraggio delle cefalee e questo deve essere degli strumenti per poter far capire al governo che il farmacista può essere utilizzato non solo per la dispensazione del farmaco ma proprio per avere maggiore aderenza terapeutica e migliori risparmi per quanto riguarda la salute e l'economia di tutto il sistema Italia. Un momento di crisi anche per i farmacisti, farmacisti in lotta, farmacisti sempre pronti a lottare per la salute del cittadino. Per le nuove leve quali prospettive ci sono? Come giustamente accennava è un periodo di crisi, crisi profonda. Negli ultimi anni la farmacia purtroppo ha visto assottigliarsi il margine di guadagno e di conseguenza la possibilità di lavorare bene come ha sempre lavorato. Il problema dei nuovi farmacisti, dei nuovi iscritti è nel primo approccio lavorativo. Trovare lavoro diventa sempre più difficile anche se, statistiche alla mano, la laurea in farmacia è una delle poche che assicura ancora a distanza di due o tre anni dal conseguimento un posto di lavoro sicuro. Quindi per carità la situazione è brutta, è dura, è difficile. Però il laureato in farmacia può trovare il lavoro, non dico in maniera facile, però un lavoro adeguato anche al titolo di studio, anche a tutto il lavoro che c'è dietro, perché non dimentichiamoci è una laurea che comporta 18 anni di studi. E quindi, dicevo, il farmacista a distanza di due o tre anni dalla laurea riesce a trovare un'occupazione. Farsi conoscere, chiedere, appoggiarsi alle associazioni sindacali. Come presidente di Federfarma io consiglio sempre i neolaureati che vengono a chiedere come possono trovare un'occupazione, di andare presso la nostra sede della Federfarma dove possono, tramite la segreteria, avere più opportunità di trovare il lavoro. Magari inizialmente con sostituzioni, con sostituzioni per maternità, con lavori a tempo determinato, specialmente nel periodo estivo, specialmente nelle località turistiche. Però tutto questo serve a farsi conoscere. E chiaramente il farmacista che ha svolto il suo impegno di studi in maniera seria e corretta ha modo di mettere a frutto quanto ha studiato, quanto ha imparato. Quindi farsi conoscere anche sotto questo aspetto è molto importante in quanto il passaparola tra colleghi è determinante in certi casi. E la preparazione è alla base di tutto. la serietà, la preparazione e la capacità di rapportarsi con il pubblico. Non dimentichiamoci che la farmacia rimane sempre e comunque il primo anello al quale il cittadino comune si rivolge in caso di bisogno a livello sanitario. Prima del medico, prima dell'ospedale, la farmacia c'è sempre, su tutto il territorio in maniera capillare, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. All'Assemblea sono intervenuti anche i senatori Mario Morgoni e Remigio Ceroni. La prossima settimana nell'Aula del Senato è calendarizzato il provvedimento sulla concorrenza che riguarda molto da vicino l'attività delle farmacie perché vi sono importanti novità come quella della possibilità che società di capitali diventano titolari dell'esercizio di farmacie, così come l'eliminazione del limite delle quattro farmacie per dare ovviamente un'ulteriore spinta alla liberalizzazione del mercato. Ma naturalmente questo processo di liberalizzazione non vuol dire deregolamentazione totale, quindi la possibilità per le società di capitali di entrare nel settore delle farmacie sarà regolamentato in modo tale che non vi siano possibilità di concentrazioni eccessive, non vi sia la possibilità di un utilizzo di denaro che provenga da attività non lecite e che possano trovare nelle farmacie un possibile sbocco di legittimazione, per cui un provvedimento importante che guarda al futuro per liberalizzare di più il settore, per dare ossigeno, per dare risorse al settore, ma salvaguardando le professionalità e la tradizionale organizzazione, la tradizionale impostazione di servizio delle farmacie. La farmacia non può e non deve diventare il supermercato, deve salvaguardare appunto un approccio di professionalità e di servizio che è attinente diciamo al servizio sanitario e quindi il provvedimento che stiamo discutendo troverà il modo di garantire questa liberalizzazione senza compromettere un patrimonio di professionalità che è qualcosa di importante e di prezioso per l'intero paese. Viviamo un momento di grande difficoltà perché quella parolina magica che è il PIL sta ferma. Il PIL misura la ricchezza di un paese, anche per assicurare la tutela e la salute a tutti bisogna avere le risorse. Se il PIL non aumenta non ci sono le risorse per affrontare i problemi di salute. A farne le spese sono i cittadini più deboli e di conseguenza anche chi offre servizi a loro. Ecco, le farmacie in questo momento sono in difficoltà perché i cittadini non hanno le risorse per comprare le medicine. Può sembrare agli inizi del XXI secolo questo è un paradosso, invece la realtà è proprio questa. Quindi mentre la popolazione invecchia e quindi ha bisogno di essere aiutata, sostenuta, non ci sono le risorse per fare questo. E quali sono i progetti quindi? Ma non è facile, la pubblica amministrazione deve farsi carico di questa situazione e innanzitutto eliminare gli sprechi. E poi bisogna far crescere assolutamente il PIL, bisogna aiutare le aziende a produrre ricchezza, a produrre occupazione perché il 50% del PIL si traduce anche in entrate per lo Stato. Quindi se lo Stato ha più risorse tutti i cittadini ne possono beneficiare. Dopo il dibattito si è proceduto all'approvazione all'unanimità del bilancio 2015 dei bilanci di previsione per gli anni 2016 e 2017. L'Assemblea si è conclusa, come da tradizione, con il conferimento di riconoscimenti per gli iscritti più anziani e con la consegna degli attestati ai nuovi iscritti. Al termine la cerimonia di giuramento.